Assessore Rizzo Nervo, la lettura della rendicontazione sociale dell'IOP può aiutare una riflessione sul futuro della sanità pubblica? Prima lo diceva nel suo intervento, è stato un convegno interessante direi. È stato un convegno molto interessante, come ogni anno è stata interessante la rendicontazione sociale, è un valore la continuità di questa rendicontazione sociale lungo questi 11 anni, è un valore farlo dopo due anni che hanno cambiato un po' tutto con il Covid e con le sue conseguenze. Noi abbiamo una fase di necessaria riprogettazione e riprogrammazione della sanità del nostro territorio regionale e metropolitano e credo che una riflessione autentica e aggiornata sull'offerta che i soggetti di diritto privato che operano in sanità forniscono a questo territorio sia un modo importante per svolgere questo percorso che andrà svolto. Credo che i prossimi anni debbano essere anni di una programmazione ancora più condivisa, di una collaborazione anche nelle difficoltà che sia il sistema a produzione pubblica sia il sistema a produzione privata nell'unico sistema di offerta pubblica accreditata stanno vivendo anche in relazione agli aumenti dei costi energetici e alle difficoltà di sostenibilità economica che ne conseguono. Nel corso del convegno è emersa una questione legata alla carenza di personale sia medico che infermieristico. Può essere utile, come accennava nel suo intervento, un tavolo, una riflessione a livello metropolitano tra i soggetti pubblici e privati per affrontare questo tema? È necessario e urgente. Noi abbiamo bisogno di evitare che, come sta a volte succedendo, le diverse strutture pubbliche e private si rubino tra virgolette i medici e gli infermieri. C'è un problema di reperimento del personale sanitario, medici e infermieri. C'è un tema ancora più preoccupante di attrattività delle professioni sanitarie e su questo credo che un territorio come Bologna possa svolgere una riflessione e condividere scelte per provare a trovare anche qui delle soluzioni al netto di una programmazione nazionale tanto sulle medici quanto sulla professione infermieristica che deve essere aggiornata fornendo maggiori risorse che oggi mancano.